In questo video vi mostrerò il nucleo di istruzioni fondamentale per la realizzazione di qualsiasi gioco platform. Le attività che svolgeremo saranno guidate ed ogni esercizio costituirà la realizzazione di un gioco in cui di volta in volta saranno aggiunte nuove funzionalità. Lo strumento principale che viene usato è Microsoft MakeCode Arcade che troviamo all'indirizzo arcade.makecode.com Facciamo clic sul pulsante gigante arancione New Project e inseriamo il nome del nuovo gioco ad esempio Principessa Confermiamo facendo clic sul pulsante Create Tre sono le aree dell'ambiente di sviluppo Nella parte di sinistra troviamo la console virtuale con tutti i sistemi di input, joystick e pulsanti per governare il gioco nella parte centrale la collezione delle istruzioni e nella parte di destra l'ambiente di programmazione Ogni volta che inizializzate un nuovo gioco troverete nell'area di programmazione l'istruzione On Start che appunto viene utilizzata per inizializzare qualsiasi gioco Inseriamo il personaggio principessa all'interno del gioco Dalla sezione Sprite selezioniamo l'istruzione Save My Sprite To e facciamo un clic sul quadrato grigio Si aprirà l'editor delle immagini Selezioniamo la sezione Gallery e di qua lo sprite che ci interessa Se lo si desidera si può modificare dimensione, forma e colore dello sprite Confermiamo facendo clic su Done Assegniamo ora le proprietà di movimento allo sprite Dalla sezione Controller trasciniamo l'istruzione Move My Sprite With Button all'interno di On Start Possiamo verificare che il nostro personaggio si muove facendo clic sul nostro joystick Impostiamo ora lo sfondo di gioco Dalla sezione Sins selezioniamo l'istruzione Set Background Image To Facciamo un clic sul quadrato grigio Si aprirà anche in questo caso l'editor di immagini Un clic su Gallery e selezioniamo lo sfondo desiderato Confermiamo facendo clic su Done Ora se disponete di una console fisica potrete trasferire su di essa il gioco Questi e molti altri suggerimenti nel corso Come creare videogiochi con il coding Programmare con MakeCodeArcade Facciamo un'istruzione Facciamo un'istruzione Facciamo un'istruzione Facciamo un'istruzione Facciamo un'istruzione